Come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità poi adesso che vi siete iscritti e comunque vabbè sicuramente avrete anche messo like trovate il tastino like qui sotto sapete che con il tastino like potete aiutare anche il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto vi ricordo che comunque poi a fine video vi devo dare due due informazioni quelle che chiamo che io chiamo informazioni di servizio che riguardano comunque il canale che comunque diciamo potrebbero esservi utili quindi guardate il video fino alla fine e ascoltate anche le altre due informazioni ma facciamo subito che partire con la prima informazione del primo capitolo di oggi partiamo allora da un messaggio dell'inps che avvisa la maggior parte delle persone e famiglie di aggiornare il pad fatto di attivazione digitale in pratica cosa sta succedendo sta succedendo che è in arrivo starebbe arrivando ed è comunque in arrivo un sms quindi un messaggio sul cellulare da parte dell'inps che informa che per poter ricevere il pagamento dell'assegno di inclusione nel mese di febbraio attenzione per tutti coloro che hanno fatto domanda entro la fine di gennaio bisogna sottoscrivere il patto di attivazione digitale il pad apro una piccola parentesi io sono anni che ve lo dico non smetterò mai di dirvelo perché non voglio che voi cascate in queste queste cose non cascate come dei polli mi raccomando siccome che in questo periodo stanno arrivando tantissimi sms da parte dell'inps un po per andare a ritirare la carta un po' per avvisarvi di quello un po per avvisarvi di quell'altro mi raccomando mi raccomando non voglio puoi sentire storie mi raccomando che se ricevete dei messaggi dove vi dicono di cliccare su dei collegamenti mi raccomando non inserite mai i vostri dati personali e soprattutto non andate a inserire codici pin password numeri di carte perché poi succedono i patatrack mi raccomando io lo dico sempre sono quattro anni che ve lo dico e ve lo continuerò a ripetere all'infinito chiusa parentesi torniamo al nostro messaggio dell'inps che in forma di sottoscrivere il patto di attivazione digitale questo messaggio viene inviato perché altrimenti l'inps non può procedere con la lavorazione della domanda e quindi per andare avanti bisogna poi comunque rivolgersi al proprio CAF o al proprio patronato queste istruzioni dell'inps sono arrivate con il messaggio 25 che è stato pubblicato sul sito internet dell'inps il 3 di gennaio quindi già un po che l'avevano detto l'avevano detto adesso lo stanno facendo e che contiene un testo questo messaggio dell'inps contiene questo testo che adesso vi leggo in caso di assenza di sottoscrizione del patto di attivazione digitale pad non si potrà procedere alla messa in pagamento della domanda e in caso di sottoscrizione tardiva del pad come per tutti gli altri casi il riconoscimento del beneficio potrà decorrere solo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del pad stesso ecco perché appunto in questi giorni molte persone mi stanno scrivendo sotto i video nei messaggi dicendomi che sono arriva che sono in arrivo questi sms questi sms in pratica servono proprio a sollecitare le persone ad aggiornare i dati quindi diciamo che non c'è nulla di preoccupante in quel messaggio per adesso ovvio che se non aggiornate i dati si preoccupa ma in realtà questo messaggio non è nulla di che preoccupante anzi mi stanno pure facendo un favore perché vi dicono fate attenzione che mi manca questo neanche quell'altro quindi in realtà potrebbero anche sbatterse ne no per dire però non lo stanno facendo qui anzi vi stanno proprio informando vi danno una possibilità come dire ricordati di fare questa cosa qua quindi è semplicissimo se vi siete rivolti a un caff patronato per fare la domanda andate da loro e loro vi aggiustano tutta la situazione se ve la siete fatti da sola la domanda è anche il sisle e tutto il resto allora lì dovete farvelo da solo perché da soli perché da quello che so se voi fate una cosa da soli il padronato non riesce ad agganciarla quindi insomma vedete un attimino poi invece per quanto riguarda le domande che sono state presentate dal mese di febbraio e comunque questo vale anche per le domande presentate poi nei mesi successivi il pagamento sarà fatto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e poi i pagamenti successivi saranno fatti il giorno 27 del mese quindi in definitiva le date di pagamento rimangono uguali a quelle che già conoscevamo con rdc reddito di cittadinanza al 15 e al 27 nulla di nuovo cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione che chi è passato dal vecchio rdc reddito di cittadinanza al nuovo assegno di inclusione adi sarà obbligato a fare una nuova domanda per continuare a ricevere l'assegno unico quello per i figli questo accade perché l'assegno unico non viene girato automaticamente da rdc a dadi cioè non c'è questo collegamento l'ins non fa questo passaggio automatico bisogna farlo noi non chiedetemi perché hanno scelto di fare questo tipo di manovra perché sinceramente non l'ho capito non l'ho capito manco io e a dircela proprio tutta sinceramente non lo voglio manco sapere però è così cioè bisogna fare un passaggio successivo perché il pagamento di assegno unico non sarà come vi ho detto girato automaticamente su adi quindi quindi cosa fare a questo punto per poter continuare a ricevere assegno unico senza avere intoppi interruzioni problemi vari nei pagamenti bisogna inviare una nuova domanda dal prossimo primo di marzo ne avevamo già parlato tantissimo addirittura a novembre chi mi segue da novembre secondo me se lo ricorda benissimo perché già all'epoca i caf addirittura chiamavano le persone per dirgli guarda viene a fare il cambio del passaggio dell'assegno unico come integrazione su rdc viene a fare il cambio perché altrimenti poi finisce che non te lo pagano più ecco o comunque non è che non te lo pagano più ovvio perché se fai domanda te lo ripagano però poi non c'è una continuità quindi succede che poi magari si saltano due mesi e poi dopo bisogna rifare domanda vai a pescare gli arretrati insomma sapete come l'inps no cioè è vero che paga però per fare le cose ci mette un sacco di tempo quindi il consiglio è quello chiuso a parentesi diciamo che a questo punto per tutto il mese di febbraio ancora l'inps e pagherà l'assegno unico sulla carta rdc dopodiché da come si è capito smetterà di pagarlo su carta rdc ma come vi ho detto bisognerà cambiare il sistema di pagamento di assegno unico se non si vuole rischiare di non di perderlo perché non è che nessuno perde niente ecco però rischia di farci saltare dei mesi e comunque per tutte le domande inviate entro il 30 di giugno le persone riceveranno gli arretrati a partire dal mese di marzo l'altro argomento di oggi riguarda una domanda che aveva adesso io sorrido perché perché mi fa sorridere questa cosa perché ne ho già parlato tantissime volte negli short e questo argomento è sempre come dire sempre attuale non so non so non so dirvi comunque è un argomento che interessa tantissimo e riguarda proprio il discorso di quali utilizzi non si possono fare con la carta di inclusione la carta adi cioè cioè in pratica dove non si può utilizzare la carta adi lasciamo stare il discorso che ne ho parlato tantissimo ma tantissimo sui su qui sul canale all'interno degli short volete vederli ce n'è una sfilza infinita una sfilza infinita basta che andate sul mio canale nella cliccate lì sulla mia immagine nel cerchietto con la mia immagine dove c'è il titolo del video cliccate lì dopo è prima guardate il video perché vi devo dire ancora due cose dopo cliccate sulla mia immagine vi si apre la home page del mio canale c'è un menù sotto con scritto video short community voi cliccate su short lì ve ne escono fuori una valanga lì rispondo tutte la maggior parte delle domande che riguardano problematiche varie quindi si parla di ricariche del telefono pagamento bollette scadenze non scadenze insomma quei video durano un minuto si fanno abbastanza in fretta diciamo che risolvono tantissimi problemi ecco ma torniamo a noi torniamo al nostro sistema di cioè di dove non si può usare la carta adi intanto partiamo dalla base che comunque già conoscevamo perché eravamo già abituati a rdc la carta adi non può essere usata per gli acquisti all'estero gli acquisti online e oppure come dicono mediante i servizi di direct marketing direct marketing siamo così che adesso mi dico vi dico poi dopo vi spiego cos'è questo direct marketing di cui si parla tanto quindi è vietato l'acquisto di beni e servizi di giochi e giochini che prevedono vincite in denaro o altre utilità simili a queste ok ma vabbè poi abbiamo le sigarette ma di questo abbiamo già parlato a voglia anche quelle elettroniche ovviamente è tutti i suoi derivati quindi ricariche non ricariche i giochi quelli lì che sapete questa parola sapete che su youtube alcune parole non posso dirle comunque i giochi quelli di luce che si fanno a capodanno ci siamo capiti tutti i prodotti alcolici e qui voglio aprire una parentesi non mi fate più domande del tipo posso comprare la birra posso comprare il tavernello che ne so io non per fare pubblicità e quando si fa pubblicità a nessuno è il primo nome che mi è venuto in mente non mi fate domande di questo genere perché vi dico già di no è che non si può a tutto quello che non riguarda acqua che ne so succhi di frutta bevande gassate tè freddo tè caldo latte tutto quello che non è tutto quello che è superiore a un grado è superiore a grado di più dell'acqua sapete che non si può comprare quindi non mi chiedete ma se io compro quello che compro no no ve lo dico già mi spiace mi spiace dirvelo sarà una brutta brutta notizia per tutti quelli che quest'estate vorranno andarsi a prendere la birretta fredda al bar in spiaggia come dice come si dice in piemontese asp non si può io ve l'ho detto poi fate come meglio credete poi vabbè tutto un discorso di armi non ha già vabbè tutto va bene ma vabbè quello va bene i tutti i prodotti e servizi per adulti quindi siti internet per adulti non sentite quella roba la no tutti i servizi finanziari e creditizi i servizi di trasferimento denaro come logico perché se la carta deve essere utilizzata solo in italia non è che tu puoi andare lì fare un trasferimento di denaro ad un'altra parte se una carta italiana deve essere spesa in italia e quindi ovviamente trasferimento di denaro no i servizi assicurativi attenzione non mi chiedete perché c'è che poi anche un controsenso tra l'altro sinceramente un controsenso perché mi dà la possibilità di usare la macchina di fare utilizzare la carta per fare la benzina però non mi dà la possibilità di pagarci l'assicurazione tu vai a capire i controsensi di questa cosa posso usare la macchina ma non posso assicurarla e allora no cioè poi vabbè gli articoli di gioielleria pellicceria acquisti presso gallerie d'arte e affini club privati e noleggio o acquisto di navi imbarcazioni e tutti i servizi portuali tra l'altro tra l'altro adesso vi dico questo ascoltate bene e in ogni caso inibito inibito l'uso della carta in servizi in scusate in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita di beni e servizi sopra elencati e qui a suo punto a sto punto veramente si risolve un altro grosso problema perché non riesco a pagare la il biglietto del pullman dal tabaccaio è perché è perché se lo dice qua è in ogni caso inibito l'uso della carta in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita di beni e servizi sopra elencati quindi se non si possono comprare gli articoli perfumatori per dire è ovvio che lì è inibito quindi un certo punto la vedo un po difficile che voi riuscì ma non che non si possa vedo difficile che riusciate a comprare un biglietto del pullman se uno vende che ne so io andate a comprare lo comprate che ne so in uno in tabaccheria perché la non possono vendere quegli articoli la e quindi non riescono a venderli neanche questo probabilmente sistemeranno questo questo problema perché ovviamente come è successo con rdc 4 5 anni fa quando è che è uscito rdc nel 2019 sicuramente all'inizio ci sono stati dei problemi anche all'epoca poi con il tempo le cose si sono aggiustate al capito dove erano le problematiche e quindi con il tempo le hanno aggiustate anche qui succederà uguale con il tempo capiranno dove 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 sta la problematica è un bel momento inizieranno a aggiustarlo poi per quanto riguardava il direct marketing che io non sapevo manco cos'era l'ho scoperto adesso non sapevo che si chiamasse così ho fatto una ricerchina e adesso ve la spiego il direct marketing o marketing diretto dice che è una forma di pubblicità che ha a che fare con la consegna di un messaggio immediato e personale quindi questo messaggio personale può essere inviato attraverso vari sistemi sia digitali che non digitali come per esempio le email le telefonate i coupon i cataloghi i messaggi sms eccetera eccetera quindi quando ricevete l'email del non so io del negozio che vende online lì non si può usare anche perché c'è scritto che non si possono fare acquisti online e quindi un bel momento è facile fare il collegamento cioè semplice bene questo era l'ultimo argomento di oggi vi devo dare le ultime due informazioni di servizio che sono la prima ricordatevi il giovedì sera 21 e 30 sui canali di youtube per le nuove dirette live da adesso fino alla prossima estate ci vediamo in diretta faccia a faccia facciamo rispondiamo a domande risolviamo problemi chi non ha voglia di far domande viene lì ci teniamo compagnia tre quarti d'ora un'oretta quello che sia quindi voi ricordatevi solo giovedì sera 21 e 30 mio canale di youtube seconda informazione di servizio ricordatevi che ho aperto una chat dedicata a voi su telegram che andate là sopra lenti di ingrandimento in alto dovete scrivere luigi youtube tutto attaccato entrate in chat ovviamente rispondete ok al messaggio di conferma vi leggete il regolamento che c'è un regolamento e poi dopo di che potete fare domande ricevere risposte una cosa molto importante di quella chat molto molto importante e che è vero che potete fare domande e ricevere risposte però se voi avete la risposta alla domanda di qualcun altro mi raccomando dovete rispondere perché come dico sempre anche negli short lo dico quella chat è pensata come un dare e un avere voi ricevete un'informazione ma date anche un'informazione a persone che hanno bisogno bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao 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 ciao